Bene, e Fraps per la 2 miliardesima volta fa un'altra merdata Ecco perchè non sto caricando video in questi giorni E perchè non posso fare video Perchè guardate, io vedo il mio desktop così Però sto registrando e voi vedrete schermo nero con le frecce che si muovono Bene, con il nuovo aggiornamento che hanno rilasciato La 3.5.9 di Fraps si è andata a farsi friggere E adesso non posso più fare video finchè non uscirà la crack del 3.5.99 Quindi, scusate ragazzi se non carico video ma non posso caricarli Guardate, vedrete lo schermo nero con le frecce che si muovono Quindi non cattura lo schermo del desktop Quindi non ci posso fare niente, speriamo esca presto questa nuova crack Se no niente più video perchè Cam Studio non mi piace, lagga da morire, l'ho provato Camtasia non registra lo schermo di alcuni giochi, tra cui Mafia 2 Quindi non posso continuare Mafia 2 e anche Hitman Ma solo Minecraft, ma se registrate con Camtasia Minecraft vi lagga a botto Quindi ragazzi, aspettiamo questa crack di questo aggiornamento E pazientate da KingBlazers è tutto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti